Buonanotte, 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 buongiorno, buonanotte a tutti gli amici che amano la notte, anche io l'amerei se ogni tanto potessi dormire, ma purtroppo 4 e mezza di intorno va in onda a quest'ora, perché io non sono come gli altri miei colleghi che la danno, e allora vabbè, vabbè, allora, iniziamo subito, subito, subito col primo ospite di questa puntata di 4 e mezza di intorni, un cantante, un grandissimo artista, ma soprattutto un grande amico, signore, tu sei la mia vita, altro no, no, signore e signori, Herbert Celentano! Buonasera, buonasera, Herbert Celentano, Celentano come il grande... Grande... Celentano come il grande... Ehm... Vittorio, mio nonno, è il più grande della famiglia. No, 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 eh, Adriano, Adriano. Adriano, eh, non lo conosco, sarà uno di quei parenti che è andato in Germania. Germania, perché non se n'è andato lei e ci ha lasciato? No, Adriano Celentano è un caso di omonimia, ecco, Adriano Celentano, il cantante. Ah, c'è un cantante che si chiama Adriano Celentano? Ah, non lo sapeva lei. Porca miseria, sta cosa mi va male a me. Pensi a lui, guarda, questa è la mia idea, perlomeno, vabbè. Pazza idea di far l'amore. Dorma, 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 non... Prego, si accomodi, si accomodi. Eh, 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 eh. Che c'è? Eh, di pelle? Che se la deve mangiare, non ho capito. Eh, no, perché io sono ambientalista. Ah, lei è uno di quelli attenti al clima. Lei cosa fa per il clima? Ma, ma, dipende, se c'è caldo mi spoglio, se c'è freddo mi vesto a cipolla. Ah, ecco cos'era l'odore adesso. Lei è un artista impegnato. No, veramente sono single. Cos'è, una proposta? Ci penso proprio. Vecchio lupo di marmo. Vedo uno forte adesso. Vecchio lupo, perdi il pelo, ma non lo scherzo. Ma lei deve stare fermo, però. Attenti al lupo. Attenti al lupo. Ma lei fa la cover band di Gigi D'Alessio, anche, perché mi sembra di averla vista, ma è questo. Allora, iniziamo a parlare di musica. Eh, che palle. E l'ho invitata per questo. Cosa dice? Cosa dice che fa? Qual è stato il momento in cui lei ha deciso che nella vita avrebbe fatto il cantante? Magari ha visto un concerto dei Pink Floyd, un Vasco Rossi che l'ha? No, quando ho visto il film Rambo. Quando ho visto quella mitragliatrice ho detto io faccio il cantante. Ma cosa c'entra Rambo? Eh Rambo, Rambo italiano. Eh Rambo, Rambo italiano. Eh Rambo, Rambo italiano. Maestro, maestro io glielo buco sto pianoforte. Vuole vedere? Rambo. Dicevamo, lei come cantante si definirebbe più cantautorale o indie? Sì. Sì che? Questo è... Mi ha dato due opzioni. Eh. Come quando va al ristorante che dice acqua naturale o minerale. Lei come si definirebbe? Eh vogliamo fare una e una? Eh facciamo una e una. E prendiamoci anche un bel quartino di vino magari. No, non bevo a quest'ora. Eh, ma lei ne ha già gli effetti. Eh. Allora, ci faccia ascoltare una canzone che ormai è anche ora. Io alle otto devo accompagnare i bambini a scuola. Vabbè, mi può reggere lo spartito per cortesia. Scusi, la canzone è sua o no? Eh lo so, io sono vegetariano. Cosa c'entra? Eh non mangio pesce, non ce l'ho sfosforo. Fosforo. Eh vede, non ho memoria. Eh ma gliela regalo io una bella chiavetta USB. E sa dove gliela metto questa chiavetta? E i giardini che nessuno sa. Eh qua pure, l'ha salvata il maestro, l'ha salvata. L'ha salvata il maestro. Vabbè, eh. Tornei a dormire, Grinch. Senta, c'ha una di quelle cose per suonare? Il diploma al conservatorio? No, no, quelle cose così per... Se non faccia gesto. Ah, il plettro. Eh bravo, ce l'ha. Non ce l'ho, sono presentatore che... E lui ce l'ha? È maestro di pianoforte, non ce l'ha. Suoni con le mani. Eh no! È maestro, maestro, maestro. Maestro, maestro, oh, allora. Eh. Forza con la canzone, dai. Allora, vado? Forza. A mezzanotte sai che io ti penserò Ovunque tu sarai sei... Questo è Celentano. Questa? È Celentano. Ancora questo Celentano? Se ne dico che non lo conosco, sarà un caso di ononimia. No, questa è una canzone di Celentano. E allora sarà un caso di canzoni mia. No, questa è una canzone sua. Eh. Se ne vada, se ne vada che mezzo. Ma dove vado a quest'ora io? Sa dove la mando io a quest'ora? Se ne va... Appunto, grazie a lei. Pure questa è mia. No, questo. Il mio pensiero se ne va... Grazie. 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 Grazie.